Siamo con Mauro Rolando, capitano della Santissimi Pietro e Paolo. Che partita è stata? Siete stati in difficoltà, soprattutto dal punto di vista tecnico. Loro hanno un alto tasso tecnico che vi ha messo in difficoltà, però avete trovato questo gol anche un po' fortunosamente. Però non siete riusciti a tenerlo? Chiaramente il primo tempo eravamo molto in difficoltà. Loro davanti a giocatori il 10, il 9, l'8 che si infilava da dietro, molto bravi. Quindi abbiamo fatto fatica a tenerli. Nel secondo tempo, con un pressing un po' più alto, siamo riusciti a riaprire la partita. Poi purtroppo gol su deviazione sotto l'incrocio, c'è sta poco da fare. Sapevate comunque di venire in una squadra forte, ora a 10 punti in battuta. Quale sarà il vostro campionato e le vostre ambizioni per la classifica? Qual è il vostro obiettivo? Il campo verde sicuramente lotterà nei vertici della classifica. Noi siamo una matricola, quindi vorremmo fare un campionato abbastanza tranquillo. Speriamo, noi puntiamo una medio-alta classifica sinceramente. Oggi avevamo qualche defezione, però speriamo già da domenica con il divino amore di conquistare i tre punti in casa e ricominciare a vincere. Maurizio Perilli, attaccante del campo verde. Un gol che vi ha dato la vittoria, però diciamo che poteva essere anche più alto il gap tra le due squadre. Sì, diciamo che il campo è quello che parla. Abbiamo creato qualcosa in più di loro, anche se comunque penso sia una buona squadra. Si difendono abbastanza bene e poi hanno comunque Gianluca Viscito che lì davanti fa la differenza. Fortunatamente ho trovato il gol un po' fortunoso su una direzione, però ci vuole anche quello nel pallone. Per quanto riguarda la classifica, siete ancora imbattuti con Real Velletri anche a punteggio pieno e anche il Torvaliani ancora a punteggio pieno. Voi non vi nascondete? No, noi puntiamo alla posta più alta del campionato, cioè al primo posto. Poi ci sono anche le altre squadre che sono attrezzate per vincere il campionato. Noi ce la metteremo tutta e sarà alla fine che si tirerà la linea per fare i conti. A quel punto vedremo dove siamo. Speriamo il più alto possibile. Comunque puntiamo a vincere il campionato.